La morte, che ha succhiato il miele dal tuo respiro, non ha ancora avuto nessun potere sulla tua bellezza. Oh, Giulietta, perché sei ancora così gnocca? E dove? Mentre te ne va a passare per l'utacche dell'Italia, c'è l'Ugliemond? Napoli! Signorina, come ti permetti? E so' in dalla scuola, so' in dalla prima elementare, non so' ignorando come un attore. Essere o non essere, questo è il problema. Professor Mariotti, dirigente scolastico dell'Istituto Magistrale di Titta, ecco il fine di questo progetto. Questo spettacolo è stato realizzato al termine di un progetto che va avanti da anni. E' un progetto che sull'onda dell'idea che il sorriso possa aiutare il paziente, possa predisporlo al superamento della malattia e a poter superare la situazione di patologia in cui versa. I nostri ragazzi si sono impegnati tantissimo nel progetto e mettono fuori tutta la loro creatività, tutta la loro verve di adolescenti e secondo me è uno dei progetti più aperti al sociale, al creativo e all'impegno civile. Ci teniamo molto a che vada avanti nel corso degli anni. Questo è un progetto che la nostra scuola porta avanti da diversi anni, 6 o 7 su per giù ed è nato come progetto contro la dispersione scolastica. Comunque è un progetto che impegna per tutta la durata dell'anno, non solo l'anno scolastico ma proprio l'intero anno solare. E inoltre ci è voluta molta collaborazione sia da parte della scuola sia da parte soprattutto nostra per la realizzazione dei camici comunque e anche di tutte quelle che sono gli oggetti di scena eccetera eccetera. Siamo contenti noi che la nostra scuola offra questo progetto gratuitamente perché in altre scuole si paga e senza l'ausilio di questa scuola così preparata non sarebbe stato possibile.